Ci sono cose normali, tipo le ambizioni, le erezioni improvvise o spararci le pose, le erezioni d'ammanacere, dir si ti amo in francese, suonare, suonare le cove, spolverare le coda e poi ci sono cose straordinarie, nascondigli per i cani, come il cielo per i nani, ho le tue tasche per le mie mani. Oh 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 Per perdere tempo, perderci tutto per niente, o innaffiare le piante e le vite in salita, fare l'amore di schiena, quanto è bella la pelle, quanto è bella la tua. Ci sono cose normali, tipo le frustrazioni, la ginnastica facciale, o ingrassare fino a aprile, e i consigli avanzati, e i pensieri contorti, o aspettare e aspettarti. E poi ci sono cose straordinarie, nascondigli per i cani, come il cielo per i nani, Ho le tue tasche per le mie mani, ci sono cose straordinarie, nascondigli per i cani, come il cielo per i nani. Ho le tue tasche per le mie mani, e poi ci sono cose straordinarie, nascondigli per i cani, come il cielo per i nani. Ho le tue tasche per le mie mani, e poi ci sono cose straordinarie, nascondigli per i cani, come il cielo per i nani. Ho le tue mani, per le mie mani. Grazie. 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 Grazie.